E' durato poche ore lo sciopero della fame minacciato da Raffaello, 60 anni disabile dalla nascita, che si è sdraiato sotto Palazzo Vecchio per protestare contro il blocco improvviso del finanziamento comunale per la vita indipendente. Si tratta di fondi che vengono erogati ogni sei mesi dall'amministrazione alle persone che soffrono di disabilità motoria e intellettiva e che servono loro per pagarsi l'assistenza personale. Contributi che per Raffaello significa 850 euro al mese che gli sono stati però sospesi per non aver rendicontato adeguatamente le fatture precedenti. Una decina di disabili dell'Associazione Vita Indipendente ha sostenuto la protesta di Raffaello chiedendo all'amministrazione contributi adeguati al grado di disabilità. Noi purtroppo siamo costretti a far lavorare in modo non regolare assistenti che comunque è solo tramite loro che noi ci possiamo garantire la vita, la libera scelta, la sopravvivenza in alcuni casi. A scongiurare lo sciopero della fame da parte di Raffaello è stato l'assessore comunale all'Welfare Sara Funaro che gli ha assicurato che il versamento dei contributi riprenderà quanto prima ma che ha anche ribadito la necessità per l'amministrazione pubblica di avere rendiconti puntuali. Ogni anno il Comune di Firenze stanza infatti 700 mila euro per i contributi alla vita indipendente di oltre 200 disabili fiorentini mentre la Regione contribuisce con un altro milione e centomila euro.